Grande successo per l'edizione 2019 della festa annuale del ciclismo pistoiese. La manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale FederCiclo si è svolta in una gremitissima sala maggiore del Comune di Pistoia. Nel corso della mattinata sono stati consegnati numerosi premi con diverse motivazioni, in particolare si è voluto sottolineare chi, fra atleti e società, si è distinto nella stagione appena conclusa. Tanti anche riconoscimenti speciali come quelli ad Aldo Bardelli, Una vita per il ciclismo, a Vasco Gori, tesserato da oltre 50 anni, a Marco Bettaccini, sezione organizzatori, alla Polizia Stradale di Pistoia e a quella di San Marcello per la sicurezza, alla sezione pistoiese dei veterani dello sport, a Giancarlo Pellegrini al servizio per il ciclismo, a Davide Lenzi come direttore sportivo, al nostro Eugenio Fagnoni, sezione didattica per aver portato questa disciplina sportiva nelle scuole. Pensavo che ci fosse meno gente, francamente, ho visto la sala piena, l'orgoglio migliore, la soddisfazione migliore di vedere le feste quando riescano in questo modo, bisogna essere più che soddisfatti. L'essenziale è proprio la sicurezza e mettere, investire, c'è una determinata somma per la sicurezza perché quella è l'essenziale per l'organizzazione delle gare. Qui in provincia quello che bisogna salvaguardare sono le gare, le gare ormai che sono arrivate a un certo livello, con un certo numero di anzianità perché quelle rimarranno sempre, quelle che vengono fatte da gruppi sportivi che magari nascano 3-4 anni e poi muoiono, quelle gare della bonechia e tante altre che ci sono, vanno salvaguardate perché sono gare che sono gli appassionati che lo fanno e lo faranno ogni anno. Questo è un segnale che bisogna dare perché effettivamente sono persone che si danno da fare e hanno a mano al ciclismo. Io mi auguro che questo sia recepito da tutti e che queste gare mantengano sempre la loro validità come anzianità di gara. Sulla festa del ciclismo pistoiese la redazione di Toscana Sprint ha realizzato un servizio speciale che andrà in onda stasera, martedì, su Sport TVL, canale 193 alle 22 e mercoledì stesso canale alle 13.